Ciao ragazzi e bentrovati! Questo è il nostro video interattivo della nostra esperienza del Modena Play 2016 Prima di andarvi a dare le opzioni voglio fare una piccola precisazione dovuta con voi perché purtroppo abbiamo avuto dei seri problemi audio in quanto non siamo riusciti a provvedere ancora al microfono direzionale e quindi ci siamo dovuti arrangiare un pochino con il microfono ambientale della nostra macchinetta Siamo desolati purtroppo e la cosa che ci tengo a precisare è che noi ci autofinanziamo quindi cerchiamo un attimino con i nostri disparmi di poterci comprare piano piano sempre più attrezzatura La promessa solenne, vera, giuro, è che dal prossimo evento sicuramente non avremo più di questi problemi Per il momento credo che fosse necessario avvisarvi che la qualità audio non sarà delle migliori anzi purtroppo sarà ai limiti dell'utilizzabile Noi però ci abbiamo messo tanta passione e questo video ve lo vogliamo comunque far vedere In alcuni casi sarete aiutati dai sottotitoli Ringraziandovi per la pazienza vi vado a presentare le possibilità Qui potrete trovare Carlo Ferrari, l'autore del Trono di Mortadella Un gioco presentato a Modena Play, piccolo, divertente, intrigante e molto strategico Sopra potrete trovare l'intervista di Emanuele Pierangelo Un nostro carissimo amico, nonché uno dei fondatori della Fever Games Casa di distribuzione di Pescara, quindi qui vicino a noi Che ci ha raccontato qualche curiosità interessante e che vogliamo proporvi Sopra il consueto appuntamento con gli highlights Tutto quello che abbiamo visto a Modena, documentato con foto e video Troverete anche qualche gioco che per il problema dell'audio che vi abbiamo spiegato prima Troverete magari l'immagine, un piccolo commento, un voto Insomma una mini decensione lampo di quello che abbiamo provato Qui, questa è una piccola chicca È la sfida al nostro youtuber, nonché carissimo amico, Teo di Recensioni Minute Che è stato veramente un ragazzo d'oro Come sempre, il nostro consueto appuntamento non è mancato Lo abbiamo sfidato e potete vedere come è andato a finire Ultimo, ma non ultimo per importanza Qui sotto troverete l'intervista a Emiliano Sciarra Autore di Bang, ma soprattutto l'inventore del cosiddetto Bang System Quindi, cosa dire? Avete solo l'imbarazzo della scelta Non avete tutta la giornata? Non avete tutta la giornata Capo Ferrari Tronimo 3 Pure Killer Games Gerais Teo Mi chiamano? Sciarra? Bang System? No No Carrofusca? Mi chiamano? El Aire? No No Cade con carne Allora ragazzi Continuando il nostro viaggio qui all'interno della guerra Abbiamo trovato Carlo Ferrari Che è l'autore del trono di Mortadella Allora, noi l'abbiamo giocato a un gioco divertentissimo Molto semplice, molto veloce Un gioco di blef, di identità Abbiamo degli obiettivi da raggiungere Che non sono comuni Io voglio però lasciare la parola a te E chiederti un attimino Innanzitutto sì Questo gioco è nato tra milioni di virgolette per caso Oppure diciamo che c'è stato una sorta di studio No no, è nato da un progetto di dare un gioco a Bologna Sì da un punto di vista storico Da un gioco che sia curibile a tutti Soprattutto anche da un pubblico di statunista Voglio abusare come metodo per far conoscere Bologna Al resto del mondo Il turismo di Bologna è cresciuto tantissimo Infatti il gioco è stampato in due e due In italiano e in inglese Però si è ricavano anche le visioni francesi E quindi abbiamo controlla la città di Bologna La città di Bologna Che si basa sui casi di canti Cioè la mortadella, le torri, il pompa Abbiamo ambientato nel Medioevo Perché nel Medioevo Bologna ha raggiunto dei suoi altri Allora, infatti, hai anticipato un po' la prossima domanda Nel senso, perché l'ambientazione è medievale? Però diciamo, tu mi hai già disposto Cos'altro ti posso dire? Cos'altro hai in cantiere come Carlo Ferrari? Allora, Carlo Ferrari in realtà fa parte di un gruppo che si chiama Linus Games Nel senso, sono degli appassionati di giochi Per vedere la maglietta Linus Games E' un gruppo di appassionati che hanno collaborato con me Nella realizzazione, nello sviluppo del gioco Avevano un programma altri tre o quattro giochi Anche la fiducia dell'anno Ci auguriamo di poterle pubblicare Siamo sempre sul genere del party game Cioè giochi immediati Sì, allora Tre sono giochi immediati Uno è un gioco di migliatura Ah, quindi Tanta roba Allora, vi do solo qualche breve accendio Vai Uno, un gioco che si chiamerà Uno ha speso la vita Una sicurazione reale di vita reale E bisogna andare un sabato sera di corsa Con una della roba al supermercato E questo è da insulti E ma è ambientato pure con la moglie che manda il marino La moglie che manda il marino Esatto Proprio questa è l'ambientazione L'ambientazione è esattamente L'hai centrata in pieno Solo che ti trovi con delle altre persone che sono lì come te Perché tu eri in casa Pensavi di farti un bel soffio di sabato sera in casa E te eri in telefono E veniva venire a casa tua E tu non hai niente di figlio La moglie ti manda a fuoco È solo che ti dà una lista della spesa Che tu devi sbattatamente durante questo corso termine Ci sono tre tipi di moglie C'è la moglie precisa che padeva quel quantitativo Di cazzo se non hai preso C'è la moglie parsimoniosa che vuole il prodotto dei costi E c'è la moglie consumista che vuole quella persona che si chiamava E tu volete il corso perché non è questa per me Questo è un progetto Hai lasciato un po', hai lasciato un muro No, guarda Quella che ti cazzo è crescita Va bene, simpaticissimi Simpaticissimo ma sicuramente anche tutti i tuoi collaboratori Noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai concesso Il trono del mortadello è un gioco veramente molto divertente Inmediato Attenzione, una cosa ci tenevo a sottolinearla Perché è un gioco immediato e veloce Appartiene alla categoria di party game Però c'è una meccanica che favorisce un buon livello di strategia Quindi consigliatissimo Compratelo E noi ti ringraziamo di tutto Saluteci per la cittadinanza Grazie a voi Ciao Allora ragazzi Ultime fattute di questo modena play del 2016 Ci siamo lasciati quasi il meglio all'ultimo Per rappresentare perché siamo qui con gli amici della Fever Games E personalmente sono un pochino di partner Che sono dei ragazzi che stanno vicino a noi E si stanno facendo veramente un mazzo tanto Abbiamo fermato qui il nostro caro Emanuele E gli vogliamo fare qualche domanda Allora, andiamo con ordine Perché noi diciamo che non proprio da un giorno all'altro Ma vi abbiamo ritrovato da semplice associazione A una casa di treci Allora, innanzitutto come avviene questa cosa? Cosa scatta nella testa? Cosa scatta? Questo tipo di ragionamento? Per me non è la tua testa che si aspetta? Come sai la passione ce l'avevamo da molti anni Sia io che mia moglie Quindi era comunque una cosa condivisa Questo sicuramente aiutava Abbiamo pensato spesso Che è bello, parlo Emanuele potremmo avere una possibilità di ritaluco, scendere, tradurre E ciò che io in base avevo l'ombi Ritando di fare delle traduzioni di raggamento Quindi Epic Resort è stato col primo Venendo a contatto con l'autore Per la traduzione che lui aveva Per il discorso Emanuele Lui era anche stato disponibile Nonostante noi fossimo al momento Comunque Non eravamo ancora nessuna Questa casa di diritto Emanuele Ci ha dato questa fiducia Ci ha permesso di rimanere questo tipo di gioco Da quel momento Giustamente cambia tutto Perché ti ripropi dalla passione Che comunque rimane ancora ancora Però Parlo come il lavoro Quindi deve occupare concretamente Tutto Emanuele Disponibile Per fare quello che trovo che ti piace Altrimenti Lo riesci a fare Ok Hai aperto la tua casa di diritto Sì Ovviamente senza svelarci i tuoi segreti O comunque sia Le tue Le tue conoscenze Però Come si raggiunge Come si prende Un contatto con un autore Qual è il tuo criterio di selezione Ovviamente quello che puoi dirci Vabbè Io non è che ho segreti Quindi Io non ho nessun problema A dirti quello che si fa Contatto con Ci provo Inizialmente c'è un contatto mia mail Quindi se vedi un gioco Che mi piace All'inizio Normalmente sono io Quindi Il primo criterio Che il gioco ti incuriosisca Curiosisca Sì Io ho il colpito Da un punto di vista grafico Vabbè parlando di localizzazione Saper valutare Prototico Disagrante L'amministrazione Certo Quindi quando parliamo di localizzazione Mi vengo colpito Se c'è Da un autografico Poi Siccome sono Diciamo Ma il mio collettore Di regolamenti Ecco Regolamenti In base al lavoramento Puoi immaginare Giocare Fai un veloce playtester Playtester Provo a capire Che può essere interessante A quel punto Lo condivido con Partire con mia moglie O con gli altri ragazzi Di cui me Il 90% Ve li Strudono In maniera Drastica Il resto che rimane Andiamo con i contatti Quindi sia su E-mail Oppure Se c'è qualche Page Andiamo con il contatto A volte Se si riesce Se viene la copia E a quel punto Passiamo Una prova Su strada Provandolo su strada Si ha Un contatto Poverde Nonostante Tu possa immaginarti Quello che può essere La prova Di un tavolo E se la cosa va avanti Si trova A capire Le condizioni Economiche Se Possono essere Fatte E chiaramente Ci sono Chi ti fa il gioco Su vicenza Quindi Arrivi a pagare A prodotti Per prodotti C'è anche Chi ti vende Il gioco Per prodotti A costruzione E quindi E senti Questo Questo processo Che ti vi hai detto È un processo Molto lungo Nel senso È un lavoro Certosino Che tu fai L'altra faccia Della medaglia Non c'è Il rischio Che ci sia Troppa soggettività Nella selezione Del gioco Nel senso Che facendo solo Cioè Nel senso Tu come mi dicevi Fai tutte queste Queste step Il gioco Ti deve colpire In qualche modo E poi Diciamo Cioè Sì Viene proposto Stasi Anche con Con i tuoi amici Però Poi Diciamo Forse Un'impronta Principale La Diciamo Un altro Un'impronta Ci penso Non solo Il tipo Che prende La decisione E parte Devo essere Pure motivato Quindi Pazienza Motivazioni E comunque Ci sono anche Seguilazioni Di altri giochi Che mi arruinano Quindi Ci sta Ad esempio Giudio Antonio Mi guardano Vedono un gioco Mi dicono Questo Che ne pensi E iniziamo A parruare Al tuo mondo Oppure Qualche Blogger Può essere Qualche uno Di oggi O anche Altri blogger Amici Che conosci un piera Il tipo Propongono dei giochi Quindi Devo un piera Come dicevo Prima Parti al regolamento Che riesci Poi La prova Gioco Tutta Lo più così Facendo Perché Comunque Dal regolamento Tra Postmaster Ad esempio Lo giocavamo Giocavamo Ma Postmaster È stato Veramente Un 13 Beh A un certo Punto Lo giocavamo Perché Lo giocavamo Spesso Io ne abbiamo Detto Va bene Lo giochiamo L'unico Problema Che ci ferma Marini Cercherà Uscire Un po' D'altro Perfetto Ma Non vieni Va bene Io Ti ringrazio Grazie a te Mi scuso Che ti ho un pochino Trattenuto Quando hai Tavoli Da tenere Di riposo Di riposo Va benissimo Un grosso Inboccarlo Purtutto Buona fortuna In maniera Particolare Perché noi Siamo un po' Vicini Di casa Grazie a questo Vi salutiamo Alla prossima Grazie Ciao Eccoci qui A fare il reportage Del Modena Play Stile radio Si Che bello Iniziamo con una bellissima foto Questa è quando siamo arrivati Un po' pazzi Un po' stanchi E qui siamo già dentro Sì 10 di mattina Già Un sacco di persone In fiera Non è stato Invivibile Anzi Poi c'era Mario Luigi Non l'ho vista Eh si Ci hanno perseguitato Su queste immagini Sì Vedo Allora abbiamo iniziato Siamo andati subito A provare The Vampire F And Tulu Il progetto Che si trova Su Jokix E poi c'era Questo concorso Di tirare cubi Questo si rifà Praticamente a Virus Che è un altro gioco Jokix Che sta per uscire E praticamente C'era Il concorso Che dovevi tirare Fare dei punti Sei punti Per poter avere un buono E noi abbiamo preso sempre No non è vero In fondo in fondo Sono stati buoni Perché a me e a Gigi Ci hanno regalato Come vi ho visto dall'immagine Il buono Ci hanno fatto vincitori Ah E abbiamo fatto anche Una piccola spesa Quindi solo io e mia moglie Ecco appunto mia moglie Che fa fail E anche mia moglie E vabbè Però è stata una bella idea Jokix ce l'ha sempre Queste idee Ogni anno dà la possibilità Di guadagnare il buono Come il famoso dado Lollo E diciamo pure Sì esatto Trolla il dado E diciamo pure Che voglio dire Sono due giochi questi Virus Vampire Che comunque sia Consigliamo di tenere d'occhio Oh qua c'è Flick em up Questa è la versione di plastica Esatto E questa è la versione di legno Questa è la versione di legno Quella per i ricchi E il gigante Il di legno è il gigante Questa per i ricchi Noi abbiamo preso la cosa Per i poveri Quella piccolina Però è molto divertente Tutto quanto con gli schiccheri Gli sfondi Fare il Dovresti anche di Emanuele Pierangelo Eccolo qui Ciao Un applauso Un applauso E soprattutto Vogliamo parlare Del play-mezzo Soldado Alle quattro Il pomeriggio Che io me lo son perso Oh Spel Saga Dicci tu qualcosa Spel Saga è un gioco Print and Play Che hanno proposto Proprio quelli D'Alfabet Games E al Modena Play Era Diciamo C'era la possibilità Di provarlo Loro ce l'hanno consigliato Ma ahimè Non avevamo tempo O ve lo consigliamo noi Oh Questi sono i ragazzi Di Beat Monkey Dei pazzi Siciliani Esatto Che ci hanno preso Ci hanno fatto provare Angry Granny Un gioco Bello 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 Sembra uguale Bit Monkey A lui Sì 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 Comprato Questo ce lo siamo comprati Perché è veramente bello Bang Duel Bang Duel Eh sì Qui siamo I Etic Abbiamo fatto un zacco di foto Abbiamo fatto anche una piccola recensione Quindi io lascerò direttamente la parola Alla recensione che abbiamo fatto Con un muore di fondo Bye Seduti alla zona TV giochi Abbiamo provato i Etic Oh io Lui è un po' io Allora semplicemente è un gioco di lanciare dati Alla Bang Dice Selezionare le varie facce del dado Scelte da un giocatore Per fare lo strike Ogni faccia ha un effetto Che ti potrà dare la possibilità di salire in vetta Della portagnola E dare vari punti vittoria Per raggiungere lo Yeti A 50 punti È un gioco per 5 giocatori In questo caso ha vinto la nostra Melania Stracciandoci E niente È un bel gioco Mi piace Molto semplice Vedo che sia anche una fascia bassa Medio bassa di piazzo Non ci alziamo Andiamo a vedere Perché lo riporterò a casa Ci vediamo E direi che l'abbiamo comprato Ma è la fine Io l'ho comprato realmente il gioco E questo è Sammy Che si è divertito con Baffo Matto Lui Mia moglie E mia cognata Questa 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 E poi c'è stato occhio allo squalo Giardinato Si si Giardinato Il bimbo Il bimbo si è veramente divertito Torre dei mostri Qui ci siamo divertiti noi Ci abbiamo cacciato il bambino Ci siamo fatti anche abbastanza male Oh questo faccio parlare per te No vabbè qui ci sono una serie di diciamo Una carrellata Una carrellata di giochi C'è Lance che abbiamo visto Fullchain che ha visto il nostro cloud E ci ha mandato queste immagini Che vi consiglia Ecco le pedine Poi ci dovrebbe essere anche Age of Colonist Giusto che abbiamo visto Questo è il terreno d'occhio ragazzi Esatto Kickstarter Progetto da vedere Noi probabilmente prendiamo due set sicuri Se non il terzo Poi c'è Signorie Che è un altro gioco Che ci ha considerato sempre Buon Claudio Claudio è andato a parte Esatto Russian Railroad Comprato sull'Undia Perché ha provato E adesso E questa è la maschera di Mario C'è una carrellata Che ho chiamato Incontri del terzo tipo Oh che bello Dead Bull Dead Bull Abbiamo incontrato anche un Nutsbull Che voleva assegare E niente Facciamo qualche considerazione finale Sul play Che ne pensi? Allora Io ammetto che è stato il mio primo play Quindi Per me Diciamo che è un pochino più Più facile dire che era tutto bello Mi è piaciuta l'organizzazione Mi è piaciuta la dislocazione Dei tavoli Ho notato qualche Qualche piccola Cioè C'era qualcuno Che non era proprio Preparatissimo Nello spiegare il gioco Fatto sta Secondo me Una delle fiere più importanti D'Italia E bisogna assolutamente viverla Perché Assolutamente sì Assolutamente Vabbè Detto questo Facciamo un saluto Un ciao da Davide E da Sauro E buon gioco a tutti Alla prossima Alla prossima Ciao 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 Siamo qui al Madera Play Abbiamo presso anche Teo Oggi le diamo Due a due Allora Vi scriviamo brevemente Quale è la sfida che ci siamo inventati Abbiamo presso e abbiamo deciso di sfidare Uno, due, tre Rolling Gamers Contro tre E le sozioni di lui Vale Lui fa vedere i tricini Lui è detto che ci farà il massimo Farà il massimo Tutti E quindi Allora La prima sfida Sarà Andiamo subito così Andiamo subito Sono pronto La prima sfida sarà Un saluto Un tetris di legno Ok Attenzione Lo scopo sarà ovviamente Riempire il prima possibile L'aria dedicata E attenzione perché Se Teo vince L'ho vinto Allora Attenzione perché Se Teo vince Ogni oltre che vince Dovremo fare Ogni oltre che vince Ma sono più intenso da fare Ok Ci sto Allora Andiamo Andiamo via 10 secondi per memorizzare 10 10 9 8 7 6 3 2 1 Via Vitudine Guarda Furnace Grazie Per farvi Vegetar Slezionare Buongiorno Sanno Ricana vere Chi è il tuo papà? E' un motivo a dare lo stesso Allora, è ufficiale Questa è la sportività che mi conta di stimolo Ho vinto ma ho dato onore al mio pensiero Esatto Non ce l'ha fatta, saluto Allora l'ultimo video Che cosa ti regala? Sei l'ha fatta, c'è il tuo papà? Questo comparirà alle spalle di Fino Sarà messo alle spalle E' 1-0 per Teo Cagna sonora, molto semplice, un dado a 12 faccia, si tirerà il dado e cirà fuori una faccia, o qua meno, esatto, 4, qui dentro ci sono 12 barattoli che ci saranno all'interno dei sassolini, diciamo, da 1 a 12 ovviamente. Noi dovremmo prendere il barattolo che secondo noi contiene 4 sfere in questo caso. Quando troviamo quello che ci sembra, giusto, lo prendiamo, lo teniamo da parte, al 3 giriamo, qui sotto ci sarà scritto il numero, chi prima di ridurre la zecca 3 dice. Pronto? Allora, 3, 2, 1, sfidiamo, è un 10. E' morto questo. E' morto? Questo, questo, 6, 1, 2, 3, 10. 1, 5, 1, 5, è 1. Mischiate. 1, thumbρεto. Mischi D'Oro, vai, 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 vai. Battito Arnaloso. Ed ecco, prima di scopo che avevo capito 11 e avevo troppo uno. Bravo. Vai. 10 viu oh. Sì, riprovo questo, vai, 3, 2, 1, è 11, è, non lo fare, c'è la mano calibrata sul guardo, stavolta avevo capito 10 ma ho preso 11 lo stesso per far vedere che, ho capito, c'è una stessa facciata, 3, questo, me la voglio giocare così, è lui, vai che è lui, qualcosa ho preso, vai, è lui, 1, 2, 3, movimenti, 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 2 a 1 signori, cosa mi gusta l'imbroglio, mi voglio sempre di 1, ma io che devi preparare, non ho mai messo, beh qua ci fai il 2 a 2 e poi il colpo finale, dai, questo è un ballo, il ballo 10, 2, 3, 2, 1, eh nooo, aspetta ma è un 9, è un 6, non c'è, non c'è, è un 6, mega farai tantissimo, nooo, noo, a casa tao, benitenza, sono pronto, la penitenza che noi avevamo pensato per te non è possiamo farti fare qua cosa con avere una canzone, muovermi per ci devi promettere sulla tua buona fede che nel video di modena noi pensavamo alla fine quando saluti tutti ci metti la parola macabana o no la sua ex moglie la tensione alle stelle devi allentarla di qualcosa qualunque cosa a macabana le manca banana nel mezzo o nel mezzo io forse alla fine che è un po più ma che la butto l'acqua c'è una macabana farò a macabana nel record di play promesso e la macabana allora la terza e ultima sfida teo almeno questa la devi prendere perché c'è un regalo e se no ti picchia leonardo che mi concede allora si sfidano su una sorta di tre scopo del giorno avranno 15 sfere a testa si lancia la sfera deve rimbalzare sul piscinetto verde e atterrata in questo campo il primo che riesce a sistemare un twist in qualsiasi posizione orizzontale verticale o in diagonale vince ok avete 15 sfere a disposizione saremo clementi se non prendete il verde potete ritirare però se tirate e fa fuori non andrà mai fuori guardate la prima pallina che fai in bocca allora siete pronti? 3, 2, 1, via! vedo una alla volta sì sì una alla volta una alla volta una alla volta vai vai niente ora si è potuto fare un traspetto è eliminata quella gara attenzione c'è anche in diagonale attenzione ce ne sono due attenzione qui sono create e lo accenso e lo accenso li vanno a vedere che il giro è un attenzione l'ho fatto questa donna sfida torna in cima allora ora doveva andare fino a via valline in cima questo è un punto senti che stava mangiando ah questo è un punto cavolo prossimo l'ho ah ok ok allora vanno a vedere è un punto dai dovete finire valline vai vai tocca a te, vai niente niente eccolo, uno uomini attenzione mannaggia è un gemma l'ultima pallina l'ultima pallina per Gae Gae, hai solo una possibilità di pareggiare pareggiando si va oltre vuoi vedere come è dopo l'ombra dai dono dai, non la posso dai, dai, dai attenzione, è ufficiale Teoti nelle cincere minute e batterò l'ingegno è l'unico che l'ha battuto sei stato tu bene, sì allora andiamo a consegnare il secondo premio allora, hai mai giocato a te? ti piacerebbe avere la pasta tua non è è una paccalionata grazie grazie leggi il tuo motore se è fatto la tua scelta, pesca più calda sei fuori di visitare in una recensione di tutta altrimenti perde un punto vita ottimo si può fare proprio cattività se la giochi tu hai vinto grazie ragazzi grazie va bene questa è la nostra piccola sfida mi raccomando seguitesi sui nostri canali youtube la mondiale le esenzioni nude più da noi perché a noi già ce ne ha tanti poi piglia i soldi quelli se ne ha guardi che lo so il grano qua fuori in Mercedes ma che lo fai? ciao ciao alla prossima buongiorno a tutti ciao ragazzini allora ragazzi siamo qui a Modena oggi è domenica sono le 10 e mezza e abbiamo incontrato niente poco di meno che Emiliano Shah l'autore di Bang con tutte le espressioni l'autore anche di Sondra Svondo aiutami se ci sono altri giovani che hai collaborato per questi sono i più famosi allora io ti ho dovuto fermare perché noi siamo partiti tutti il nostro gruppo come primo gioco giocato da Bang l'ha comprato lui è stato il primo gioco che abbiamo giocato siamo rimasti colpitissimi abbiamo tutta la collezione volevamo farti il giusto capito allora innanzitutto io ti voglio fare la domanda per come hai impostato questo gioco tu dovresti essere un appassionato degli spaghetti western su water western in generale sono un appassionato anche se non è scherzo ok che altro della spaghetti western ho voluto congire un po' l'aspetto non eccessivamente serio un po' l'aspetto anche di stita di non fidarsi di nessuno si sposa bene con me il fatto di noi semisegreti il fatto che tutti sbagli tutti di ogni caso ecco io però su questo ti voglio fare subito una domanda noi ci siamo resi conto che soprattutto nelle prime partite con il gioco base giocandolo al massimo delle insette in pratica ci siamo accorti che nel giro di primo turno si rischiava magari che un giocatore moriva subito e magari non riusciva a sviluppare il suo gioco e quindi questo ti voglio chiedere è stato questo forse che ha dato in là per migliorare la meccanica che poi in Samurai Sword si trova una meccanica completamente diversa dove il giocatore non è costretto non muore ma praticamente perde un'idea è stato un po' più arresto oppure è stato diciamo per altri motivi che è stata cambiata questa meccanica sicuramente è anche un giocatore attivo un giocatore attivo non ha reti di protezione si può morire altrimenti però perché questo si sposa anche con la militazione tra queste non è altissimo si muore e gli ha voluto ti sparano altri peggiori e chiaro che da un punto di vista ludico ludologico l'eliminazione è un po' finalizzante nel giocatore infatti è accettabile se il giocatore non riempra entro dei limiti di tempo è un po' estremico pensate se è terrissimo che se non può essere eliminato la preguita è massimo certo quando se è possibile sviluppare sempre il giocatore un obiettivo era togliere la eliminazione e fa vogliere anche questa intera di centra di giocatore che è molto attenzione di giocatore tra l'altro si è sfruttato naturalmente di tali di musica e questo qua è comportato però uno studio parecchio che si è lavorato veramente tanto perché se voi provate a togliere semplicemente le eliminazioni avverte sono tutte le serie di sovrastrutture che stronano come il castello di canti che è vero e questo è un po' di canti anni di ricerca e di l'altro viene ad arrivare a un po' massimo di sovrastrutture infatti per questo ti chiedo con Bang abbiamo un cammino diciamo molto ben impiato a livello di espansione di studi adesso abbiamo anche Bang Google che ce l'abbiamo qui la copertina che è proprio specifica per i due giocatori ecco ma io ti torno un attimo se siamo restori ci sarà in cantiere qualcos'altro per questo gioco oppure secondo te sta bene così con Rising Sun al momento non sono felice che non sono felice sono felice però altri progetti che non si sono felice ma un po' che non può anche prima che ci non possiamo spizzicare l'ambientazione non si può niente però ci saranno altri giochi bank system quindi questo ci fa molto piacere Emiliano sei stato gentilissimo una persona adoro io sono cioè io tremo ragazzi io tremo ti ringrazio grazie 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 grazie